Ehi, tu. Siamo vivi. Ok. Visto? Che ti ho detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo vuoi? Ehi, no! Harry! Mi sta indietro tu! È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciati là fuori a morire. No. Era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro! Se stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Ehi, cerchiamo in questa zona. Vediamo cosa troviamo. Beh, è stato intenso. Stai bene? Sì. Troviamo quella torre radio. Ehi, magari in quella barca laggiù c'è qualcosa. Ehi, amici, aperti! Ci avevo già pensato. Cosa? Prima volta su una barca. Beh, quando è in acqua la questione è diversa. Un passo per volta. Ellie, forse ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Un passo per volta. Ufff! Grazie. Grazie. Sì, io avevo uno yacht di venti metri. Davvero? No. Sarcasmo. Facciamo progressi. Ehi, Ellie! Mi sa che abbiamo trovato qualcosa. Andiamo a vedere cos'è. Scommetto che arriva fin dall'altra parte. Dammi una mano con questa. Ok, insieme. Forza. Facciamolo. Ok, dai ragazzi, via! Ok, andiamo. Dai, tratta. Ehi, fuori le torce. Sam, resta. Sì, io lo so. Qualcuno sta imparando, finalmente. Ah, grazie, lo so. Da che parte? Joel, dovremmo guardare di qua. Ok, guardiamo da questa parte. Non mi piace questo posto. Neanche a me. Non abbiamo molte opzioni. Good dogma, non mi piace questo posto. No mi piace questo posto. No, non mi piace lo so. Non mi piace questo posto. E, cosa ieri? Se riesci ad aprirla, striscio dentro e sblocco la vuota. Oh, che cavolo, che razzo enorme! Oh, che cavolo, che cavolo. Andranno con noi fino ad Atom? Beh, non lo so. Dovremmo vedere come vanno le cose. Ehi, di qua! Andiamo a questa parte! Qui! Possiamo uscire da qui! Ah, non c'è modo di arrivarci. Beh, io non so notare. Allora... È incastrata! Ok, Joel. Come attraversiamo? Dovremmo inventarci qualcosa. Ehi, quest'affare è su una specie di binario. Forse possiamo usarlo in qualche modo. Oh, no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Harry, fai una prova. Ok. Chi siamo? Sì, funziona! Vado a vedere. Tieni gli occhi aperti. No, 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 no. Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Sì! Sono ancora intero. Oh, merda! 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 E qui dentro. Qualcuno che credeva di poter tenere al sicuro un posto come questo. Sentito. Sì, sì, silenzio. Sì, sì. 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 Sì.